Che cos'è un percorso di medicina anti-aging? Buongiorno, sono il dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi mi trovo a Monte Carlo, dove si è tenuto il congresso mondiale di medicina anti-aging in cui ho tenuto una relazione sulla flessibilità metabolica che potete visionare integralmente sul mio canale YouTube. Ecco, cosa significa percorso anti-aging? Ecco, la medicina anti-aging è un tipo di medicina relativamente giovane, nata negli anni 80 negli Stati Uniti, è un tipo di medicina assolutamente innovativa che si basa innanzitutto su test diagnostici assolutamente approfonditi che consentono di individuare quella che è, diciamo, da un lato l'età biologica della persona, quindi qualcosa di diverso dall'età semplicemente cronologica legata alla data di nascita, ma come ci fanno capire come è invecchiata quella persona lì fino a questo momento. Poi esistono chiaramente dei test che sono atti a valutare la vulnerabilità genetica, quindi a studiare l'epigenomica piuttosto che altri aspetti come l'infiammazione e piuttosto che lo stress. Quindi c'è una fase diagnostica assolutamente importante che consente di fare poi un'azione che ci consente di fare una medicina di precisione, quindi non di assumere integratori in qualche modo generici, anche se completi, ma ci consente di fare una medicina di precisione proprio su quella persona lì. Poi sicuramente c'è tutto l'aspetto ormonale legato all'indocrinostanescenza su cui si può agire e tutto questo fa parte quindi di un percorso, quindi diciamo c'è un percorso diagnostico iniziale per vedere qual è la situazione della persona in quel momento. Sicuramente vengono valutati quali sono i fra virgoletti problemi di quella persona lì, possono essere menopausa, andropausa, stanchezza, lucidità mentale, energia, quindi ci sono diverse aree su cui si può intervenire. Equilibrio ormonale è un altro aspetto, sappiamo come l'indocrinostanescenza è una delle teorie più importanti dell'invecchiamento e uno squilibrio ormonale con andare del tempo è inevitabile, quindi bisogna intervenire precocemente per mantenerlo. E quindi in realtà non è un intervento one shot fondamentalmente, anche se andate dal medico anti-aging più bravo del mondo, se ci andate una volta non serve a nulla tradotto. Quello che serve invece è partire bene col piede giusto, facendo possibilmente il percorso anti-aging top, che è quello completo che racchiude molti test diagnostici di secondo livello, test magari più semplici per quanto riguarda l'assetto ormonale, test del DNA e poi da qui lavorare sulle aree di vulnerabilità, quindi di fatto un vero e proprio percorso. Quindi nel tempo, poi chiaramente le terapie possono modificarsi perché le persone cambiano, le fasi della vita cambiano, io ho pazienti che sono in cura da me da 10-15 anni, chiaramente magari erano partiti, insomma, fondamentalmente avevano 35 anni, adesso ne hanno 50 e quindi chiaramente le fasi della vita sono cambiate, le necessità cliniche sono diverse. E quindi secondo me questa è una cosa molto intelligente, se posso dire, quindi però perché consente di rimanere, diciamo, fra virgolette giovani a lungo, però bisogna avere questo tipo di visione, non vuole fare un investimento sulla propria salute, salute non vuole fare esami, non vuole seguire la terapia, se una persona si accontenta di vivere la vita che vive normalmente, allora probabilmente il percorso anti-Age non è per lui. Mentre se una persona vuole rimanere vigile, attiva per il tempo possibile, possibilmente non ammalarsi e utilizzare tutte le strategie al mondo che esistono per evitare questo, e ci sono, vi ricordo che la medicina anti-Age si basa su degli studi scientifici pubblicati fondamentalmente, non è un qualcosa di astratto. Quindi prima si studiano i processi di invecchiamento e poi, chiaramente sulla base degli studi, si indirizza la terapia, però non è affatto qualcosa di empirico. È bene specificarlo perché insomma ci sono anche un po' di medici anti-aging o personaggi anti-aging un pochettino improvvisati. Se volete sapere qualcosa di più sul percorso anti-aging, in particolare sul percorso anti-aging top, potete visionare il mio sito www.tomella.it. Al prossimo video.